Alessandro Bolis, Istituto per il Credito Sportivo, che cosa ne pensa dell'innovatività di questi progetti? Innanzitutto penso che sia ottimo il fatto che un ente di promozione sportiva faccia promozione come driver di cultura e di innovazione, questo è fondamentale. Tanti progetti, tante belle iniziative, soprattutto innovazioni dal punto di vista sociale, non sono mancate le innovazioni tecniche. Devo dire che dal nostro osservatorio di banca pubblica che finanzia lo sport, l'innovazione è un qualcosa che deve essere coltivata continuamente, perché lo sport è un drive, è un canale di valori fondamentale, ma anche è un canale di grandi innovazioni. La cosa che mi è piaciuta di più è vedere tanti progetti che poi ricadono nel turismo, nella valorizzazione delle città, nella valorizzazione della rigenerazione urbana, nel coinvolgimento e l'inclusione sociale, un unico comune denominatore, lo sport, e questa è una bellissima iniziativa. Grazie mille.